Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est in primo piano una vicenda, una lite particolarmente animata a Cervignano delle Friuli un incidente stradale successo a Sacile il maltempo che compromette la funzionalità dell'acquedotto, della destra tagliamento ma parleremo sempre di maltempo spostandoci a San Vito al tagliamento dove sta succedendo ormai da tempo una situazione che ha portato all'esasperazione alcuni cittadini con i liquami che di fatto invadono le strade un fulmine che si è abbattuto a sesto a Reghena vedremo anche come è andato i contagi in Veneto che non si fermano test sierologici per i professori e gli insegnanti ma ci sono delle criticità come ci hanno segnalato dei telespettatori e anche insegnanti e poi la parte politica, quella economica e tanto altro ancora prima di proseguire però con il telegiornale i saluti e le prime notizie che arrivano anche dalla redazione di Udine e da quella del Veneto a voi la linea grazie direttore, ben ritrovati cari telespettatori come sempre molte le notizie anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste nuove intercettazioni di migranti sia in provincia di Udine che in provincia di Trieste sono molte anche le preoccupazioni da parte degli utenti delle linee ferroviarie poiché molti sono i ritardi dovuti ai rintracci che avvengono proprio sui binari ma poi ancora cronaca una lite degenera a Cervignano del Friuli e vedremo in che modo arresti per droga a Trieste dove un uomo giovanissimo e una donna vendevano appunto droga nella loro casa ma ancora al via in questi giorni la stagione è venatoria molte le raccomandazioni da parte delle autorità competenti e poi spettacoli a Udine in uno dei borghi più belli vale a dire Borgo Aquileia con l'iniziativa Sotto le Stelle in uscita una nuova clip di una band friulana che si chiama Gli Ex Store di questo ed altro parleremo più tardi la linea ora va al collega del Veneto grazie della linea ai colleghi di Udine un saluto anche dal Veneto dove preoccupano i contagi all'interno della questura di Venezia il sindacato di polizia FSP ha scritto una lettera al questore sentiremo il responsabile regionale del sindacato a fronte degli aumenti da coronavirus in Veneto oggi il punto della situazione del governatore Luca Zaia ma anche l'alto numero di tamponi finora eseguiti tra test rapidi e screening quasi 3 milioni di campioni e poi l'economia con i posti di lavoro che crollano in Veneto e le stime per il 2020 che parlano di un calo di oltre il 10% del PIL regionale questo e anche ovviamente tante altre notizie nella nostra parte generale la domanda che avevamo posto nell'edizione precedente la leggiamo con il supporto della regia quindi la vediamo vediamo se la regia mi eccola qua verso Palermo i 353 migranti della Sea-Watch Salvini se sbarcano denuncio il governo ha ragione sì l'89% di voi no il restante 11% è sempre il governo in primo piano oggi c'è stata l'udienza del ministro Speranza che ha parlato al Senato della pandemia ha parlato di scuola, di vaccino addirittura ha detto che se viene commercializzato in Italia arriverà entro la fine dell'anno chissà se sarà effettivamente la volta buona ma la stoccata questa volta arriva non da Salvini ma da Confindustria risposte inadeguate all'emergenza perché crolla il PIL il PIL di fatto il prodotto interno lordo la ricchezza diciamo del paese causa il covid già insomma gli indici non erano ben auguranti prima dell'inizio della pandemia è crollato nuovamente visione di fondo assente risposta alla crisi da coronavirus non ancora adeguate di vieto di licenziamento di dubbi utilità è una posizione piuttosto critica verso l'operato dell'esecutivo quella presentata da Confindustria in audizione al Senato sul decreto agosto gli interventi d'urgenza adottati dal governo ha dichiarato la direttrice generale dell'associazione degli industriali italiani Francesca Mariotti pur cercando di rispondere a pressanti stanze di ordine economico sociale nonostante le ingenti risorse complessivamente stanziate 100 miliardi non delinano ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e a quelle di ripresa e di crescita di fatto risposte inadeguate all'emergenza questo governo secondo Confindustria di fatto non ha posto in essere misure per uscire non soltanto dalla crisi ma soprattutto anche per far ripartire l'economia di fatto ha giustificato il corlo del pile siete d'accordo? ci fate sapere se ritenete opportuno i metodi li vedete in sovra in pressione apriamo il telegiornale l'ite particolarmente animata Cervignano del Friuli ed è degenerata in un'aggressione fisica il primo servizio una lita in strada è degenerata ieri sera in via Garibaldi a Cervignano del Friuli erano circa le 21.30 quando forse in preda ai fumi dell'alcol un uomo del posto è passato dalle parole ai fatti litigando con una donna lui ha afferrato una bottiglia di vetro e ha colpito la sventurata alla testa ferendola gravemente alla drammatica scena hanno assistito diverse persone che hanno chiamato il 112 sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Cervignano e della compagnia di Palmanova la donna è stata assistita dal personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova è stata trasportata in ospedale in condizioni serie ha certamente in corso da parte dei militari dell'arma per verificare cosa sia successo al vaglio la posizione dell'aggressore un uomo già noto alle forze dell'ordine adesso vi rendiamo conto anche di un incidente stradale che si è verificato quest'oggi a Sacile in tarda mattinata la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone intervenuta per un incidente stradale frontale tra due autovetture a Sacile in prossimità della rotonda tra via Padernelli e strada Geromine i vigili del fuoco assieme al personale medico giunto con un'ambulanza da Sacile hanno soccorso gli automobilisti che si trovavano già fuori dalle autovetture messi in sicurezza i veicoli presenti i crabinieri e la polizia locale di Sacile sulla stessa via qualche ora prima si era verificata una fuoriuscita autonoma di un'auto senza conseguenze per l'automobilista sui social è un po' divampata la polemica qualcuno sostiene che quella strada sia ripetutamente oggetto di incidenti stradali talvolta anche dall'esito grave ora ci chiediamo quando effettivamente potranno essere fatte e apportate delle migliorie alla rete stradale stessa maltempo compromessa la funzionalità dell'acquedotto nella destra tagliamento il servizio il maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia lo scorso fine settimana ha seriamente compromesso la funzionalità dell'acquedotto d'estratagliamento lasciando diverse attività produttive e circa 15.000 cittadini privi di acqua potabile l'ondata di piena del torrente Comunia da cui si rifornisce ha quasi completamente demolito l'accesso all'impianto che consente la captazione delle acque ha distrutto diverse apparecchiature e strumentazioni tecniche e creato una voragine nel terreno delle dimensioni di circa 200 metri quadrati e profonda circa 3 metri i lavori di ripristino finalizzati a garantire in tempi brevi il regolare funzionamento del sistema acquedottistico sono iniziati domenica scorsa e proseguono senza sosta mentre contestualmente è stato avviato un servizio di approvvigionamento sostitutivo di acqua potabile attraverso il posizionamento di una ventina di cisterne collocate nei punti strategici del territorio interessato dall'emergenza le operazioni di ricostruzione hanno consentito la rimozione dei detriti il parziale ripristino dell'impianto di captazione gravemente danneggiato la riattivazione della derivazione di acqua potabile sul torrente Comugna e il riempimento della voragine che si era creata e che impediva l'accesso con mezzi alla galleria a partire da domani sarà dato avvio ai campionamenti finalizzati ad accertare le idoneità dell'acqua uso potabile alimentare con l'obiettivo di concreto con le aziende sanitarie di poter dichiarare la fine dell'emergenza entro pochi giorni queste conseguenze delle maltempo conseguenze delle maltempo visibili anche a San Vito al Tagliamento andiamo allora tra via Fontanasso e via delle Fosse una zona tra le altre cose a me è conosciuta allora io chiedo a Maurizio di farmi vedere delle foto che ci sono arrivate questa mattina questa è Fogna Pura liquami che escono dai tombini situazione che si presenta ripetutamente ma era da due anni che non si verificano più determinate situazioni sono bastate insomma le abbondanti piogge di questi ultimi giorni per far riemergere un problema annoso c'è stata una raccolta firma anche da parte dei cittadini l'amministrazione di Bisceglie e Gregoris prima avevano promesso delle risoluzioni a questo annoso è problema e il risultato però è questo allora io vado con Valerio Delle Fratte consigliere comunale a San Vito al Tagliamento vi è ritrovato dottore grazie per essere in nostra compagnia anche lei si è preso a cuore la situazione come possiamo commentare queste immagini che chiedo ancora alla regia mentre il dottore parla magari di farci vedere io penso innanzitutto che le immagini si commentino da sole quindi aggiungere altro a quello che abbiamo visto credo che sia del tutto inutile chiunque abbia la possibilità di passare quando piove da quelle parti sa che questa è una situazione purtroppo non nuova che spesso anche le fosse di San Vito presentano appunto degli scarichi da fognatura nera che in questi anni si era sempre promesso di risolvere ma purtroppo poco o nulla si è fatto sappiamo che qui la competenza è in parte del comune in parte della partecipata di LTA sono state fatte sicuramente delle opere delle ispezioni sappiamo che diciamo entrambi si sono mossi ma evidentemente non è bastato quindi io penso che a questo punto la capacità di risolvere un problema di questo genere veramente liquami davanti casa e nella pubblica via a San Vito dal tagliamento nell'anno 2020 credo che siano veramente qualcosa di inaccettabile improponibile da parte di un'amministrazione che si voglia definire un minimo capace e credibile nelle proprie attività nelle proprie promesse e quindi in vista delle elezioni del prossimo anno io chiedo veramente che queste immagini rimangano impresse nella mente delle persone perché chi abita lì ce l'ha naturalmente davanti agli occhi ogni qual volta piove stamattina ho parlato con dei cittadini tra altre cose ringrazio saluto il nostro telespettatore Gianfranco di fatto è un problema non soltanto perché c'è l'allagamento della pubblica via gli odori nauseabondi che si sentono a centinaia di metri di distanza cioè trovarsi il liquame davanti casa cioè che raccoglie la fogna di tutte le abitazioni le ottimizzazioni lì non è proprio il massimo della vita credo no dottore guardi io qualche anno fa ero proprio in quel punto e stavo facendo delle fotografie a questa situazione perché appunto sono intervenuto più volte sia in consiglio comunale che anche sugli organi di stampa su quella situazione specifica particolare e una macchina è passata per un pelo sono riuscito a evitare che mi arrivassero schizzi praticamente addosso quindi immagini passare vede c'è una pista ciclabile ciclopedonale immagini di dover camminare perché è l'unico posto dove si può camminare in quella strada che è piuttosto stretta con un piedi o in bicicletta e ricevere addosso appunto questa roba quindi è qualcosa ripeto che a San Vito a Tagliamento in Friuli Mestre Giulia nell'anno del Signore 2020 credo che sia veramente inaccettabile e purtroppo non è l'unica situazione perché quella è una situazione diciamo conosciuta e anche stigmatizzata più volte ma ci sono altre situazioni in cui i liquami vengono sversati direttamente nelle fosse ci sono delle situazioni in cui vanno sanate vanno sanate perché ripeto non è possibile anche l'esempio di sappiamo che via Malteo stanno facendo i lavori era una via priva di fognature in centro storico di San Vito però un conto è il centro storico un conto sono le abitazioni diciamo dove maggiori sono le possibilità di intervenire in tempi rapidi per sanare queste situazioni quindi chiedo veramente oramai non mi appello più all'amministrazione comunale ma chiedo alle persone agli elettori di ricordarsi di queste cose e la prossima volta andranno a votare però dottore proprio si parlava di elezioni amministrative del prossimo anno i tempi stringono di fatto i nomi possibili candidati liste si stanno già facendo centrodestra deve ovviamente prendere delle decisioni cosa farò da grande? io ho una domanda ce l'ho appunto per lei riuscirà il centrodestra questa volta a unire le forze mettersi assieme e soprattutto convergere su un unico candidato? io credo che questo sia auspicabile naturalmente era un auspicio anche delle scorse elezioni che poi come sa non si è concretizzato con i risultati che conosciamo credo che l'esperienza sia abbastata e anche avanzata per quanto ci riguarda naturalmente per quanto riguarda Amo San Vito io sono rimango il candidato della lista civica che rappresento anche in consiglio comunale con il consigliere russo e naturalmente visto il risultato dell'altra volta noi non possiamo sottrarci all'impegno che ci siamo assunti con gli elettori e che ci hanno premiato facendo di noi il terzo gruppo di San Vito al tagliamento quindi abbiamo il dovere di portare avanti non solo il nostro programma in questo mandato amministrativo ma anche di riproporci e di proporre naturalmente il nostro progetto per le prossime elezioni se intorno a questo progetto si coaguleranno tutte le forze che ci credono e che hanno voglia di partecipare a questo progetto noi siamo assolutamente ben lieti insieme naturalmente a tutte le forze veramente civiche che appunto vorranno appoggiare e appoggiarci in questo progetto poi naturalmente di persone di programmi ci sarà anche se i tempi stringono il tempo di parlarne anche se credo che sarà una una campagna elettorale diversa da quelle passate perché purtroppo non ci sarà la possibilità di grandi incontri e si svolgerà in altri ambiti in altre forme a questo proposito io inviterei chiunque sia già candidato o si voglia candidare alle prossime elezioni che riveste magari i ruoli istituzionali se non l'ha fatto prima che sarebbe già stato opportuno a lasciare gli incarichi o sospendersi come sarebbe buona prassi in un paese civile Dottore grazie ringraziamo Valerio Delle Frate consigliere comunale a San Vito al tagliamento ci vedremo nei prossimi appuntamenti sicuramente grazie a lei un fulmine si è battuto a Sesto Reghena incendiando il quadro elettrico racchiuso in una cornice di legno vicino all'ingresso di una villetta nella frazione di Ramuscello dove risiede una nuova antena è successo questa notte alle 3 la scarica ha fatto cadere a terra il quadro provocando un principio di incendio il fumo ha cominciato ad invadere le stanze al pian terreno dell'abitazione su due piani raggiungendo la camera da letto dell'anziana svegliata dal tuono e sentito il fumo ha visto le bracci sull'uscio seppure intimorita ha avuto la prontezza di riflessi di chiamare un vicino di casa subito il signore ha mobilitato i soccorsi l'ambulanza del 118 atteso sulla porta i vigili del fuoco di San Vito non potendo entrare per via delle fiamme del fumo mentre la novantenne si è chiusa in una stanza e si è messa vicino alla finestra dopo averla aperta per respirare boccate d'aria fresca due giovani pompieri con gli autoprotettori sono entrati in casa e hanno accompagnato in sicurezza l'anziana fuori dall'abitazione affidandola poi alle cure del personale delle 118 contagi in Veneto non si fermano ovviamente continua l'emergenza Covid-19 ancora aumenti nella notte sulla scuola ecco quali sono le linee guida Nelle ultime 24 ore in Veneto sono 163 nuovi positivi al Covid-19 il numero è stato ufficializzato dal governatore Luca Zaia oggi a Marghera in unità di crisi per fare il punto della situazione relativamente all'andamento della pandemia i tamponi eseguiti fino ad ora sono oltre 1.500.000 mentre i test rapidi 1.320.000 dunque quasi 3 milioni di screening effettuati sull'effetto del coronavirus pesano al momento i vacanzieri di ritorno che sono la maggioranza dei nuovi positivi nelle scuole 31.000 persone testate in isolamento se si considerano le 7 province venete ci sono oltre 7.600 persone di queste i sintomatici sono 117 i ricoverati sono 152 2 in più rispetto a ieri le terapie intensive vedono al loro interno 13 pazienti i morti dal 21 febbraio sono 2.123 i positivi oggi sono 2.556 di cui 117 sintomatici per dare un'idea chi ama le statistiche su 10 positivi 4 hanno sintomi un terzo degli isolati sono positivi sul capitolo scuola la regione ha reso note le linee guida per i bambini da 0 a 6 anni la febbre verrà misurata negli istituti mentre per gli alunni più grandi direttamente a casa seguendo un patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie se lo studente presenta sintomi da covid lo stesso viene isolato in una stanza ad hoc e sottoposto a tampone rapido in caso di positività si darà il via alla ricerca diagnostica di tutti i contatti la classe non sarà automaticamente chiusa ma si eseguirà l'indagine su compagni e professori e sapete che gli insegnanti devono sottoporsi ai test sierologici in vista dell'inizio del prossimo anno erano questi gli ultimi giorni per prenotarsi quindi l'insegnante deve chiamare il cosiddetto CUP e dire sono Mario Rossi nome ovviamente di fantasia sono un insegnante e devo prenotarmi il test sapete cos'è successo ed è una situazione che succede anche per chi torna dalle vacanze chiama il numero verde o un altro numero fisso a pagamento dell'azienda sanitaria e non risponde nessuno ma qua siamo ancora peggio perché ci chiamano da San Vito al tagliamento oggi è la giornata del San Vittese ci chiamano da San Vito al tagliamento e ci dicono che di fatto non ci sono più posti cioè le prenotazioni di fatto ci sono ci sarebbero ma i posti sono andati in esaurimento allora l'insegnante di San Vito cosa fa viene dirottato ad Azzano ad Azzano è la stessa situazione come il cane che si morsica la coda poi viene dirottato a Sacile o viceversa di fatto cosa è successo che ad oggi e mi sembra che oggi domani scadano di fatto le prenotazioni il professore o la professoressa di turno non riuscirà a fare il test sierologico quindi comincerà l'anno scolastico ovviamente senza aver fatto i test ovviamente è un'odissea poi chiamare perché chiami l'azienda sanitaria chiami il CUP sono occupato ritenti la parte della segreteria poi non rispondere insomma un'odissea per prenotare questi test sierologici allora io dico l'azienda sanitaria siamo un po' seri se mettete dei numeri degli orari delle indicazioni fatti in modo che qualcuno possa rispondere soprattutto esaudire le richieste perché altrimenti è poco fare la prevenzione se poi la prevenzione stessa non è possibile per colpa ovviamente dei numeri che sono intasati del poco personale queste sono situazioni davvero paradossali che poi ci vengono raccontate per dovere dicono anche a noi vi comunichiamo quindi non è magari la colpa dell'insegnante che si è rifiutato di fare il test sierologico covid-19 perché non ha trovato posto ed è stato dirottato da una parte all'altra ci ha perso e alla fine è rimasto con un pugno di mosca andiamo in Veneto Sì con Marco Terenzi continuiamo a parlare di sanità ma in questo caso del Veneto orientale ben ritrovato Buonasera ci si chiede insomma come in una visione verso i prossimi 5 anni questo territorio possa magari anche migliorare ulteriormente portando avanti delle istanze anche nuove Sì beh guardi come Partito Democratico anche del Veneto orientale sui temi della sanità noi abbiamo espresso un'idea molto chiara innanzitutto abbiamo detto che per troppo tempo il dibattito si è concentrato solo sull'ospedale o sugli ospedali tre ospedali di rete San Donà Portogruaro Iesolo ospedale unico sì ospedale unico no adesso c'è quello nuovo adesso c'è quello nuovo in realtà abbiamo noi abbiamo sempre detto che prima della razionalizzazione degli ospedali eventualmente bisogna agire con il rafforzamento e il potenziamento dei servizi territoriali perché vede l'ospedale in qualche modo interviene per la fase acuta e lì il cittadino ha risposte adeguate certamente anche di eccellenza mentre i servizi territoriali dovrebbero rispondere alla cronicità e lei sa che anche con l'invecchiamento della popolazione la cronicità sta aumentando in termini anche di domanda e di casistica quindi è più che necessario trovare una rete di servizi territoriali che garantiscono la continuità assistenziale mi riferisco ad esempio all'egregazione di medici medicina generale e queste devono partire ma devono partire concretamente anche in modo organizzato con la presenza anche di altri specialisti di altri profili professionali di infermiere quindi la medicina integrata la medicina integrata certamente la medicina integrata è da tempo che se ne parla ma non è ancora partita secondo elemento l'assistenza domiciliare integrata anche questa è preziosissima è una risposta importante che deve essere data per la cronicità o comunque per patologie che richiedano un intervento quotidiano capisce questo è il tema vero poi c'è anche l'ospedale di comunità che non è l'ospedale per acuzie garantisce una residenzialità ad una minore intensità sanitaria insomma manca la rete dei servizi territoriali la regione Veneto nel prossimo quinquennio non solo attraverso i documenti ma attraverso le risorse ed azioni concrete dovrà investire perché ormai la pressione del bisogno da questo punto di vista è enorme ultimo tema le liste di attesa per prestazioni specialistiche anche questo riguarda i servizi territoriali le liste di attesa sono troppo sono troppo dilattate troppo lunghe e i bisogni invece sono relativamente immediati bisogna trovare un punto di sintesi fra le liste di attesa che devono accorciarsi devono ridursi e l'evidenza dei bisogni bisogna investire nel territorio nel Porto Guarese c'è un vulnus un punto nero in questo senso poi chiudiamo c'è una situazione critica io non direi punto nero perché parliamoci chiaramente la sanità è uno dei punti di forza del sistema Italia però non possiamo rimanere inerti rispetto all'evoluzione del bisogno anche perché la popolazione invecchia la popolazione invecchia i bisogni aumentano i bisogni complessi aumentano c'è bisogno di una rete di continuità assistenziale grazie a Marco Terenzi per essere stato con noi linea che può tornare a Porto e Nome coronavirus sui contagi in questura a Venezia interviene il sindacato di polizia FSP che esprime forte preoccupazione sentiamo allora Mauro Armelao segretario regionale del Veneto il servizio sarebbero otto i contagi totali al covid-19 registrati in questura a Venezia ai cinque di ieri se ne aggiungono almeno altri tre secondo quanto comunicato dal sindacato di polizia FSP ente che ha scritto una lettera al questore lagunare lamentando tutta la propria preoccupazione noi lamentiamo che i protocolli sanitari che attualmente sono viventi sono in vigore per noi come poliziotti secondo il nostro avviso sono carenti dovrebbero essere rivisti essere più stringenti sicuramente la salute dei poliziotti e anche dei cittadini perché non possiamo accettare che gli operatori di polizia siano un veicolo di trasmissione di questo virus in quali condizioni operano i suoi colleghi allora noi operiamo ovviamente sempre in condizioni di autotutela è stato fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica specialmente anche negli uffici dove ci sono comunque gli ambienti chiusi però quello che noi evidenziamo che un collega che è risultato purtroppo positivo al covid-19 al tampone non aveva partecipato a questa famosa cena post-lavoro che è stata fatta quindi vuol dire che parte del contagio è partito anche dall'interno dei nostri uffici ecco per questo lamentiamo ovviamente la carenza di protocolli sanitari più severi dove ci sia meno discrezionalità da parte dei nostri medici della polizia ma affinché i colleghi che sono venuti a contatto con un collega positivo siano quantomeno messi in quarantena immediatamente in attesa eventualmente del tampone qualora questi sviluppassero dei sintomi riconducibili al covid in vista anche dell'autunno qual è la preoccupazione più grande come sindacato? Ovviamente se questi sono i primi risultati ecco dei primi giorni di settembre figuriamoci arrivare al mese di dicembre gennaio febbraio in pieno picco eventualmente della classica influenza stagionale qualcuno a febbraio parlava di banalissima influenza e noi diciamo che non è una banalissima influenza perché altrimenti qualcuno non avrebbe deciso di bloccare l'Italia intera per tre mesi so che lei poi vuole fare anche un appello al governatore del Veneto Zaia se appelliamo alla sensibilità del governatore del Veneto Luca Zaia perché sappiamo ovviamente di essere vicino alle forze dell'ordine alla pari degli italiani che rientrano ai paesi considerati a rischio fra cui anche la Croazia qui vengono effettuati i tamponi siano considerati in questo momento i poliziotti di Venezia provenienti anch'essi dalla Croazia come fossero arrivati anche loro dalla Croazia non da una cena di lavoro ma da una cita fuori porta all'estero tutti insieme tra colleghi e ripeto tamponi a tutti per questo chiediamo a Zaia di intervenire in maniera concreta a tutela appunto di quegli siotti veneziani tamponi a tutti e di fatto anche Silvio Berlusconi è positivo al covid lo sapeva? perché va sempre in giro no? no è sbriatore si stasse a casa sua non andrebbe sbriatore è andato a trovarlo in Sardegna gli ha detto stai benissimo è fatto staglia gli ha portato anche un po' di sfortuna comunque è positivo asintomatico ed è in isolamento ad Arcore al di là di questo caro Giovanni Rampogno il cittadino ben ritrovato grazie tra qualche giorno comincia la scuola sì signore mio figlio è raffreddore covid o influenza come distinguere i sintomi o almeno provarci allora non siamo ovviamente medici quindi non le farò una domanda però è nonno lei certo è come nonno anche dei nipoti che vanno a scuola certo che abbiano cinque anni che abbiano quattro che abbiano dieci anche i bimbi i ragazzini sono portatori di covid-19 e diventa impegnativo effettivamente in questa giungla in cui non si capisce più nulla anche per un nonno prendersi la responsabilità magari di andarlo a prendere di portarlo di fare un po' le deci anche del genitore che non può magari occuparsi di lui per motivi di lavoro che si sa benissimo prenderlo a 30 anni è un conto prenderlo a 80 anni 85 cambia completamente la prospettiva ecco gli anziani in questa situazione che animo hanno? ma se devo parlare per la mia esperienza personalissima oggi ho vissuto appunto un'esperienza di questo tipo ho una nipote che va a scuola e le insegnanti gli insegnanti e quant'altro non erano in grado di dare delle risposte e delle indicazioni precise circa il comportamento da tenere nella scuola nella classe quindi le cose i tavoli i banchetti le sedie eccetera poi lascia tutta la fantasia io capisco queste robe qua molto importanti però gli insegnanti secondo me si devono aggiornare ma vi prego insegnanti non prendetela come un'osservazione sgarbata come un consiglio professionale che non possiamo lasciare i giovani a chiedere cosa avete fatto nell'estate quando sappiamo cosa è accaduto nell'estate ecco quindi dare le indicazioni al comportamento della scuola e nella scuola dare delle indicazioni precise salvaguardanti la dignità della vita e la dignità del vivere ecco quindi è pericoloso tralasciare certe situazioni di salute perché perdiamo di credibilità questo governo mi permetto dottore questo governo non sta facendo bene però dobbiamo dire che non sta facendo nemmeno male perché peggio di così non si può andare si deve solo risollevarsi e i padroni gli industriali che rilasciano dichiarazioni a destra e a manca si guardino bene nel loro portafoglio cosa hanno accumulato in questi lunghi anni di sfruttamento dell'uomo sull'uomo questi sono ragionamenti da fare e quindi è vero il PIL è andato giù il PIL è il prodotto interno lordo la ricchezza del lavoro anche il mio lavoro di pensionato è compreso nel PIL come il vostro lavoro di lavoratori dipendenti o autonomi quindi bisogna lavorare e bisogna smettere di portare i capitali all'estero bisogna smetterlo perché la Svizzera una volta era la Cina vicina adesso è la Svizzera vicina e quindi dobbiamo stare molto attenti non diamo causa a nessuno per l'amor di Dio anche il mio il mio parlare così un po' così focoso rappresentato siamo un po' usciti dalla domanda che l'avevo fatto all'inizio sì sì è vero perché siamo finiti dal nonno che deve prendere la scuola alla Svizzera sì cerchiamo di invece di foc perché ci sono tanti anziani che da casa ci ascoltano nonni che tra qualche giorno avranno l'incombenza se il nipotino ha la febbre sì o ha no anzi con la febbre no se ha il raffreddore un po' di mal di gola che situazione si trova a fronteggiare veramente come facciamo a dire ha il covid o non ha il covid o una semplice influenza non lo sanno neanche i medici non lo sanno nemmeno i medici e la febbre è sì un indicatore ma però non è definitivo e non è determinante quindi con quale spirito ecco e noi assumiamo questi incarichi delle famiglie io per la verità personalmente oramai i miei nipoti ma non sto parlando di lei però coloro i quali hanno bambini piccoli sono grosse responsabilità perché medici ce ne sono pochi personale specializzato infermieristico apriti cielo e noi ci troviamo i nonni si trovano a dover gestire delle situazioni molto delicate chi garantisce l'incolumità dei bambini questo e allora le maestre che devono fare dei corsi professionali atti a presentarsi alla classe in maniera adeguata non lo hanno fatto ma non perché non lo hanno fatto loro non lo hanno fatto perché non è stato fatto dalle organizzazioni scolastiche e quant'altro ecco sono situazioni che lei ha elencato molto bene e che io oramai avevo la tua età quando ero nonno già oddio nonno giovane nonno giovane è appunto ancora sostanzialmente giovane ecco ecco però questa è la situazione ora le scuole a livello locale si devono dare una registrata e prendere atto che alcune situazioni vanno senz'altro corrette e precisate e quindi vecchio alza la testa che il potere te la rompe grazie grazie a Giovanni Rampogna e al cittadino numerosi rintracci di migranti si sono verificati anche nella giornata di oggi e quella di ieri molti dei quali sulle rotai i comitati pendolari del Friuli Venezia Giulia sconfortati da tanti ritardi hanno chiesto una soluzione immediata un altro gruppo di 27 migranti è stato individuato ieri sera a Pradamano segnalato da alcuni abitanti della zona in prossimità del greto del torrente Torre i carabinieri della compagnia di Palmanova li hanno rintracciati e poi radunati nel parco Rubia alcuni erano entrati poco prima nei negozi della zona anche in un panificio per chiedere generi alimentari e bibite nella notte i maggiorenni sono stati trasferiti al centro di Tricesimo mentre 21 minori sono stati affidati al sindaco Enrico Mossenta saranno sottoposti a tampone e posti in quarantena fiduciaria un altro gruppo di migranti è stato avvistato intorno alle 18 di ieri sempre sul sedime ferroviario a Udine i treni sono stati nuovamente fatti rallentare per questioni di sicurezza ma nessun particolare disagio è stato arrecato a quell'ora al traffico su rotaia tuttavia i comitati pendolari del Friuli Venezia Giulia hanno lanciato un appello alle istituzioni ieri è stata una giornata assurda per il trasporto ferroviario in regione hanno denunciato i pendolari per tutto il giorno sono stati segnalati ritardi fino a 30 minuti causati da persone estranee presenti sui binari il problema dei migranti della rotta balcanica è molto serio e va risolto senza se e senza ma il senso dell'impotenza dell'utenza è totale di fronte ad un problema che pare non interessare chi di dovere ci appelliamo alle istituzioni affinché intervengano per trovare soluzioni immediate concrete ed efficaci per garantire la normale circolazione dei treni viaggiare in queste condizioni è impossibile hanno concluso i pendolari a Trieste infine 14 minori non accompagnati afghani sono stati denunciati sempre nella giornata di ieri dalla volante della polizia di Stato perché si erano allontanati dalla comunità dove stavano trascorrendo la quarantena fiduciaria saluto e ringrazio Stefano Della Flora consigliere comunale a Fontana Fredda per il Movimento 5 Stelle ben ritrovato grazie buonasera grazie direttore buonasera a casa due gli argomenti sicuramente il successo delle serate che state organizzando relativamente a un bonus tutti ci stanno chiedendo delle notizie magari lei ce le può dare in anteprima bonus 110% chi ha diritto come sfruttarlo e quant'altro magari anche i prossimi appuntamenti e poi la tematica del PIL oggi Confindustria è andata a gambattese nei confronti del governo dice un governo inadeguato che non ha saputo gestire non sta gestendo sufficientemente l'emergenza partirei però dal bonus 110% perché sono tanti da casa che ovviamente vogliono avere un po' il quadro generale della situazione sì possiamo anche dire già in premessa che il bonus 110 tra l'altro è un provvedimento che si collega benissimo al contrario con le critiche arrivate oggi da Confindustria tanto è vero che nelle nostre serate oramai è consuetudine che ci siano presenti le associazioni di categoria da Confartigianato all'associazione delle costruzioni edili all'associazione ingegneri all'albo ingegneri scusate alla presenza delle banche soprattutto devo dire la BCC non voglio fare propaganda però la BCC ci sta dando massima disponibilità e queste serate ottengono risultati uno dietro l'altro la prossima sarà adesso come al solito non mi sbilancio finché non ho il luogo preciso ma diciamo nella zona del San Vittese dovrebbe essere a breve l'ultima è stata venerdì scorso a Spilimbergo con un notevole afflusso perché tra l'altro abbiamo avuto poco tempo ed è stata pubblicizzata solo sui social quindi abbiamo praticamente riempito il teatro cinema in Piazza Duomo a Spilimbergo serate informative che vanno appunto a spiegare come funziona chi ne può usufruire e man mano tra l'altro che queste serate proseguono le domande che vengono fatte sono anche spunto per poi cambiare il modo di relazionare in modo tale da anticipare quelle che sono le risposte alle domande più frequenti quindi sta veramente diventando un qualcosa di importante con un successo di pubblico che a prescindere dalla propaganda elettorale che non ci interessa però denota l'esigenza la voglia di questo paese di ripartire con un provvedimento che a detta di tutti i relatori quindi non dalla parte politica ma a detta dei tecnici che sono intervenuti e che intervengono durante queste serate è un provvedimento unico mai stanziato in Italia quindi insomma per un po' di chiarezza della Flora chi ha diritto a questo bonus del 110% soprattutto come funziona perché parlare così sembra veramente un qualcosa io voglio essere molto semplice perché poi entrare nel dettaglio ci sono vari casi ma in buona sostanza chi ha una struttura una casa un'abitazione tra l'altro faccio presente che vale anche per le seconde case quindi se uno ha la casa di proprietà e la seconda casa può ristrutturare la seconda casa secondo questi criteri e secondo questo bonus ma sostanzialmente gira tutto attorno alla parte energetica quindi una casa che si certifica che ha un valore energetico si fa un'app che è il certificato energetico della casa se con un paio di interventi o tre interventi si riesce a crescere di due classi energetiche il 100% del lavoro è pagato dallo Stato ci sono due o tre modalità lo sconto in fattura lo sconto sull'IRPEF il credito in banca ci sono due o tre modalità per riuscire a ottenere diciamo la parte finale che è quella che il cittadino non sborsa nulla ok si chiama 110% perché questo 10% che c'è in più oltre al 100% serve alle spese e ai guadagni di chi ti fa il credito e quindi alla fine tu riesci a cambiare i seramenti fare il cappotto e mettere la pompa di calore a costo zero e oggi non è più fantasia perché dopo l'uscita delle circolari che aspettavamo da parte dell'agenzia delle entrate la documentazione è tutta chiara a onor del vero ci sono un paio di questioni tra l'altro emerse proprio venerdì scorso sulla circolare dell'agenzia delle entrate che non sono molto chiare e il nostro rappresentante alla camera Luca Sud si è impegnato a fare in modo di chiarire perché per come sono scritte si fanno fatica a interpretare certo senta così velocissimamente cosa rispondiamo a Confindustria che oggi dice un governo adeguato risposte inadeguate all'emergenza sta crollando il PIL tutta colpa di Conte Conte Di Maio e Zingaretti ma noi di questo non avremo mai la prova perché purtroppo o per fortuna abbiamo avuto questi a governo quindi è facile dire il contrario sempre e di tutto io personalmente e lo dico da imprenditore tra l'altro del settore edile che è uno dei settori più importanti del nostro paese dico che questi di Confindustria dovrebbero cominciare a toccare la realtà con le mani invece di volare un pochettino troppo alti quello che è stato detto precedentemente dall'amico Rampogna è vero nel senso che dovrebbero fare i conti di quanto hanno guadagnato fino adesso delle opportunità che hanno avuto fino adesso e cercare di ricordarsi che rappresentano anche i lavoratori io da uomo del settore vi posso dire che nella nostra zona quindi almeno nel Pordenonese e nel resto del territorio quindi Friuli invece Giulia e una parte del Veneto i miei riscontri sono totalmente opposti da tutte le critiche che sono state dette io vedo voglia di fare vedo ve lo dico la maggior parte degli artigiani che sono stati più o meno fermi durante il lockdown hanno rinunciato tutti alle ferie per continuare a lavorare e quest'anno è stato un agosto anomalo perché la mia categoria ha praticamente continuato sempre a lavorare ma con dei volumi di lavoro enormi che non giustificano solo la crisi che c'è stata prima ma vuol dire che comunque la base lavorativa che c'era e che c'è e che si sta proponendo di giorno in giorno è in fase esponenziale quindi questi sono i dati che vedo io poi se vogliamo fare polemiche a stretto giro si possono sempre fare e dire una cosa senza avere la riprova è di solito molto semplice tra qualche giorno ci sono due appuntamenti importanti si vota in molte regioni e poi c'è il referendum quindi è chiaro che mai come ora si sente anche la necessità di fare le sparate che sia poi positive o negative quello lo giudicheranno i cittadini però era inevitabile che anche le associazioni di categorie prendessero una posizione sì beh ma allora va bene io sono abituato a ragionare sui numeri e sui fatti oggi per esempio è uscito un report sull'andamento delle PMI italiane e siamo i primi negli ultimi 26 mesi siamo i primi in assoluto nel manifatturiero nel manifatturiero in tutta Europa questo segnale è in completa contraddizione con quello che viene affermato poi ripeto se la politica e se la propaganda entrano nelle associazioni di categoria è sempre sbagliato bisognerebbe cercare di essere razionali e tra l'altro abbiamo un ministro dello sviluppo economico che tutto si può dire tranne che non ascolti e soprattutto tranne che non venga proprio da quel mondo industriale per esperienza lavorativa del quale si fa portavoce e ne tutela gli interessi vedremo nei prossimi appuntamenti grazie anche a Stefano Della Flora consigliere comunale Fontana Fredda per i 5 stelle rimaniamo a parlare di economia corrono nei posti di lavoro in Veneto le stime per il 2020 parlano di un calo del 10,6% del PIL regionale Turismo e commercio sono i settori più colpiti dall'arrivo della pandemia da Covid-19 in Veneto il saldo nel secondo trimestre è di appena 12.000 posti di lavoro ben 22.000 in meno rispetto al corrispondente periodo del 2019 lo si evince dai dati diffusi dal bollettino di Veneto Lavoro l'industria nel suo complesso risulta appena positiva con più 800 posti contro i più 4.200 dell'anno precedente le 1.300 posizioni più registrate in agricoltura non rappresentano neppure la metà di quanto registrato un anno prima a maggio e giugno si sono però registrati anche i primi segnali di ripresa con l'arresto della caduta occupazionale e il parziale recupero delle assunzioni le previsioni attuali restano comunque fortemente negative l'Istat stima per il secondo trimestre dell'anno una caduta di entità eccezionale per il PIL nazionale che segue il già ampio calo del primo trimestre per il Veneto le stime per il 2020 parlano di un calo del 10,6% del PIL regionale in virtù del peso del settore turistico sull'economia e di una maggiore apertura internazionale del manifatturiero Veneto in calo i disoccupati tra aprile e giugno 2020 gli ingressi in disoccupazione sono stati 22.300 pari a meno 18% rispetto allo stesso periodo del 2019 ma ciò non rappresenta di per sé un segnale positivo a diminuire infatti sono soprattutto gli inoccupati meno 65% ovvero persone alla ricerca del primo impiego un fenomeno che rende evidente lo stato di scoraggiamento dei giovani nell'affacciarsi al mondo del lavoro il secondo trimestre del 2020 evidenzia agli effetti negativi della pandemia sul mercato Veneto per la prima volta il secondo trimestre dell'anno si chiude con un saldo negativo pari a meno 6.700 posizioni di lavoro dipendente tra aprile e giugno il risultato negativo è dovuto principalmente ai provvedimenti di lockdown imposti per limitare la diffusione del contagio che hanno comportato da un lato il mancato avvio delle attività stagionali legate alla Pasqua e dall'altro il ridotto e ritardato avvio di quelle estive su base annua calcola Veneto lavoro il calo è stato di oltre 40.700 posizioni lavorative le dichiarazioni di Stefano della Flora che hanno fatto intravedere degli spiragli diversi rispetto alle dichiarazioni oggi della rappresentante di Confindustria che ha attaccato il governo e sosteniamo anche la posizione di Beppino Nosella open sinistra Friuli Venezia Giulia professore ben ritrovato grazie per essere in nostra compagnia si aspettava dei dati così inquietanti con i sciorinati proprio oggi da Confindustria che però forse non raccontano la verità sentendo l'esponente dei 5 Stelle che dice io vedo una situazione tutt'altro che negativa almeno nei territori locali no vabbè ci sono due itaglie come sempre e i dati vengono sempre letti un po' dalla parte che si vuole perché i numeri sono fatti anche per essere interpretati è vero che sta aumentando l'occupazione è vero che sta aumentando però l'occupazione precaria perché si sta spostando quel mondo specialmente femminile che viene utilizzato soprattutto per i lavori precari o per il part time i giovani ancora nel mondo del lavoro fanno un po' fatica non è partita completamente l'economia però stiamo vedendo una casa qui vicino a noi l'Electrolux ha iniziato ad assumere stanno prendendo mercati che prima non avevano neanche la possibilità di guardare in caso della Dalio di Morsano ieri abbiamo fatto il servizio raddoppia su 80 persone quindi sta ripartendo il mercato non sta partendo ordinato perché anche il settore dell'enio sta ripartendo in maniera molto importante è vero che dobbiamo un po' recuperare quello che abbiamo perso in questi mesi però se vediamo cosa sta succedendo è un qualcosa che non si riesce a capire perché anche le borse se si vede le borse stanno andando in controtendenza alle economie che hanno i paesi è vero che il dollaro si è apprezzato è vero che anche il petrolio sta salendo c'è una situazione che ancora non si capisce si capisce invece che tutti stanno aspettando ottobre ottobre novembre perché lì si capirà veramente se i mercati potranno andare tranquillamente oppure no molti stanno aspettando anche l'apertura delle scuole cosa succederà sì però lei mi capisce in questa situazione anche il lavoratore adesso può può dirsi salvo perché i licenziamenti sono bloccati quando però apriranno le maglie le possibilità di licenziare non so se ci sarà tanto una situazione idilliaca come sta lei descrivendo le associazioni di categoria io penso che ci rifletteranno un attimo prima di licenziare prima guarderanno bene il mercato il mercato sta rispondendo sta rispondendo a livello internazionale l'Italia si trova in pole position contro confronto ad altre nazioni perché è riuscita a creare una situazione che gli ha permesso di rientrare nel mercato prima degli altri subito dopo la Cina siamo rientrati noi nel mercato e pertanto non siamo in una situazione di difficoltà la nostra difficoltà è recuperare tutto il pil che abbiamo perso nei mesi passati ma se vediamo i dati di oggi vediamo che l'economia è ripartita e stiamo riconquistando un mercato stiamo riconquistando un'economia stiamo riconquistando posti di lavoro quello che abbiamo perso abbiamo perso soprattutto nel precariato è vero che alcune attività specialmente quelle commerciali stanno fortemente soffrendo e lì veramente alcune partite IVA stanno fortemente soffrendo e lì il governo dovrebbe intervenire dovrebbe intervenire su tutte quelle attività come la ristorazione come l'abbigliamento come il casavari tutto ciò che è accessorio che ha sofferto prima e adesso fa fatica a ripartire ma l'industria non può dire che in questo momento non sta ripartendo forse a piccoli settori non stanno ripartendo ma il settore del legno la metalmeccanica stanno ripartendo piano piano e stanno dando forza al mercato e specialmente alle esportazioni e arriveranno entro la fine dell'anno anche i primi miliardi delle next generation EU ovvero il recovery fund come impiegarli perché adesso in questi giorni il governo è impegnato in un'altra mission dimostrare all'Europa di essere in grado di saperli utilizzare nel miglior modo possibile oggi è stato molto chiaro si è detto non potranno essere utilizzati per abbattere la tassazione quindi dovranno essere fatti per investimenti ma di fatti abbattere la tassazione con i finanziamenti che invece devono produrre occupazione sarebbe sbagliatissimo poi tutto quello che stanno dicendo della tassazione al 15% o abbattere il costo del lavoro secondo me è la strada sbagliata si può abbattere il costo del lavoro ma nello stesso tempo devi alzare l'IVA perché non puoi fare abbattere da una parte e non recuperare dall'altra perché se no lo Stato si troverebbe sempre con le casse vuote necessario fare una patrimoniale? no la patrimoniale assolutamente no non se ne parla più da secoli è inutile che continuino a tirare fuori la patrimoniale che il centro-sinistra vuole fare la patrimoniale ormai è una cosa della storia del passato nessuno ha interesse nella patrimoniale si può fare una riduzione del costo del lavoro ma in parallelo bisogna riaggiustare l'IVA perché se no non riusciamo a riempire le casse noi dobbiamo cambiare il nostro sistema di fiscalizzazione dobbiamo anche dall'altra parte separare l'Inps dalle sue incombenze perché l'Inps non può avere tutto il carico pertanto bisogna separare il previdenziale dall'assistenziale perché se non si fa questo è logico che l'Inps continua a soffrire posso fare l'ultima battuta? oggi sono stato all'Inps perché avevo appuntamento e ho visto la desolazione perché negli uffici pubblici non si riesce però l'impegno che stanno mettendo i dipendenti pubblici per tanto anche i comuni è veramente tantissimo stanno lavorando dietro le quinte e stanno tenendo in piedi l'Italia per il nostro interesse per garantirci che ci siano le pensioni e tutte le assistenze che noi ne abbiamo bisogno chiedono denaro i passanti con insistenza a Treviso due giovani fermati sanzionati dalla polizia locale chiedevano con insistenza denaro importunando i passanti e inseguendoli lungo la strada ma hanno dovuto fare i conti con la polizia locale intervenuta per metter fine ai loro comportamenti è accaduto ieri in centro storico a Treviso tra via Bordone e via Manin nei guai sono finiti due giovani un 19enne e una 25enne provenienti dalla Romania senza fissa dimora ma in possesso di cellulari di ultimissima generazione chiedevano però soldi per vivere una circostanza che ha spinto la polizia locale a vederci chiaro stazionavano di fronte ai negozi e continuamente fermavano i cittadini i due giovani sono stati compiutamente identificati sanzionati e fatti allontanare dal capoluogo della marca purtroppo ha dichiarato il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo si verificano spesso episodi di persone che chiedono offerte con velate minacce ai passanti per questo abbiamo intensificato i controlli anche in Borghese per tutelare i frequentatori del centro storico e allontanare questi soggetti che spesso fanno parte di organizzazioni criminali che sfruttano giovani e giovanissimi anche minorenni per raccogliere denaro e investirlo in attività illecite le prossime settimane inizieranno i lavori di realizzazione della rotonda di Gleris nell'intersezione tra via provinciale via Morsano e via Cordova dove a San Vito al tagliamento allora parliamo di questo argomento argomento caro all'amico Alberto Bernava consigliere comunale a San Vito e candidato sindaco anche fino a prova contraria per i cittadini ben ritrovato Torre grazie per essere tornato dunque partiamo da questo argomento qual è la vostra posizione e abbiamo anche dei contributi fotografici poi anche da mostrare ai nostri telespettatori prego la nostra posizione l'abbiamo espressa in maniera molto chiara in consiglio comunale al di là dei posizionamenti di carattere politico noi ci siamo sempre espressi in maniera molto netta e molto chiara nel merito delle cose abbiamo sostenuto il progetto della rotonda di Gray semplicemente perché è una cosa che serve quindi al di là di chi la propone la sosteniamo l'abbiamo sostenuta è un'opera che può portare ecco vediamo anche esattamente lì è l'incrocio tra via Cordovado via Provinciale via Morsano è sicuramente un punto particolarmente delicato ci sono stati anche degli incidenti nel passato e quindi portare una rotonda in quella zona lì al di là dell'incrocio stesso anche all'obiettivo di rallentare il traffico in un rettilineo dove chiaramente le auto prendono purtroppo velocità lì c'è poi la chiesa ci sono i centri di aggregazione sociale c'è il campo dai mezzi in transito c'è il campo c'è il campo da calcio quindi l'aggregazione di Gleris e la piccola frazione di Gleris chiaramente vive lì il cuore lì quindi portare questo tipo di intervento sicuramente ha un valore noi l'abbiamo sostenuto sono circa 300 mila euro di intervento anche perché poi ci sarà la realizzazione collegata di un tratto ciclopedonale all'inizio di un via morsano l'amministrazione afferma che questo tipo di intervento risolve e risponde alle richieste dei residenti noi diciamo come posso dire Sni diciamo che sì è vero è un inizio di intervento di riqualificazione della viabilità nella frazione ma dobbiamo ricordare le battaglie che abbiamo fatto come cittadini e io francamente in prima persona essendo anche poi chiaramente di Gleris quindi venivo coinvolto coinvolto direttamente la raccolta firme di via Cordovado discussa in consiglio comunale tra il 2017 e il 2018 che portò anche grazie al nostro emendamento un impegno nel bilancio previsionale del nostro comune affinché via Cordovado e l'ampliamento di via Cordovado venga posta come priorità da parte di questa amministrazione siamo purtroppo alla fine del mandato ci stiamo avvicinando alla fine del mandato e quell'impegno lì purtroppo è rimasto su carta e quindi sarà un impegno di chi verrà e chiaramente noi ci proponiamo per essere coloro che porteranno questo tipo di intervento sia con fondi propri ma chiaramente faremo di tutto per intercettare anche fondi dagli enti superiori poi c'è l'aspetto della raccolta firme che è tuttora in essere si è rallentata purtroppo per l'emergenza Covid i tradizionali banchetti di raccolta firme si sono l'attività diciamo si è sospesa ma sono già state raccolte centinaia di firme e si continuerà a raccoglierle perché vi è un progetto molto ambizioso che coinvolge il comune di San Vido Tagliamento il comune di Sesto Arreggen io ho parlato personalmente con entrambi i sindaci e entrambi sostengono questo tipo di iniziativa con i residenti quindi collegare quel tratto di via Morsano che sarà oggetto di intervento Gleris portando e collegando con una pista ciclabile la frazione di Gleris a Santa Sabina qua ci vuole l'intervento della regione perché è un intervento infracomunale intracomunale quindi richiede sicuramente l'impegno degli enti locali e della regione soprattutto anche per una questione di finanziamenti ma vi è sicuramente una grande attenzione perché ad oggi abbiamo visto le foto molte persone che si recano da Gleris a Santa Sabina noi sappiamo che a Santa Sabina c'è un servizio importante di alimentari che serve anche alla fazione di Gleris è il punto di riferimento della comunità che magari si recano in bicicletta non possiamo permetterci eccole qua esatto poi non so se è passata non me ne sono accorto ecco questa è proprio via Santa Sabina la strada che porta poi Santa Sabina questa è una delle nostre primatari se prosegue ancora arrivi a Morsano esattamente è la direttrice che va al mare quindi tutto il nostro territorio soprattutto d'estate utilizza molto quella strada e le velocità come sa sono particolarmente elevate proprio ieri l'altro ieri c'è stato anche un incidente un trattore che si è rovesciato ecco quindi sappiamo che è una zona molto delicata bene quindi oltretutto vi è un progetto che era nei cassetti della ex provincia quindi c'è un progetto di massima con anche la realizzazione di una rotonda proprio a Santa Sabina il superamento delle province ha portato le competenze a Friglio-Venezia giudastrade e comunque in generale la regione è compito nostro è compito degli amministratori locali continuare a sensibilizzare e sostenere i residenti che chiedono sicurezza e sostenere questo tipo di iniziative sicuramente da candidato sindaco la sicurezza stradale è centrale è una direttrice centrale del nostro programma noi faremo tutti gli sforzi per mettere a disposizione investimenti in conto capitale e intercettando contributi degli enti superiori per mettere in sicurezza il nostro territorio Dottore grazie ci vediamo nel prossimo appuntamento Alberto Bernava consigliere comunale a San Vito è candidato sindaco per i cittadini parliamo di sport la giornata a Pordenone presentata quest'oggi quest'oggi alla presenza del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e dell'assessore comunale De Bortoli domenica 6 settembre a Pordenone torna la festa dello sport nei dintorni del municipio dalle 10 di mattina alle 6 di sera gli stand delle associazioni sportive locali forniranno a grandi e piccoli tutte le informazioni su corsi e attività un'occasione unica per avvicinare i propri figli alle discipline sportive tutte rappresentate nei circa 50 gazebi a causa delle norme anti-covid quest'anno non si potranno provare gli sport ma quello organizzato dal comune sarà comunque una festa questo è un territorio fortunato sia in termini di impianti sia in termini di associazioni che svolgono le più svariate discipline quindi questa festa perché festa sarà non potrà più mostrare come gli anni scorsi le discipline del vivo ma consentirà di approcciarsi di parlare con le varie associazioni per consentire a questi ragazzi di scegliere lo sport che più preferiscono perché lo sport è salute è relazione è stare insieme è divertimento è crescita a ogni visita negli stand a bambini e ragazzi verrà rilasciato un coupon con il timbro dopo dieci timbri si potrà ritirare gratuitamente un gadget a scelta tra mascherina borraccia bandana e maglietta è proprio una vetrina come lei diceva cioè tutti i genitori possono portare il proprio bimbo in questa passerella nel cuore della città nel cuore bello della città ma la città di Pordenone è tutta bella dobbiamo dire la verità in modo da visitare tutti gli stand delle nostre attività sportive dimostreremo quanta offerta sportiva che dà la città di Pordenone e vi devo dire che con questa amministrazione è veramente tanta ripresi i simboli delle province che erano state abolite cancellate soppresse in Friuli Venezia Giulia per effetto anche delle decisioni della riforma Seracchiani Panuntine ed era quella anche poi l'ipotesi anche della modifica del referendum costituzionale appunto poi bocciato da Renzi quindi la soppressione delle province e la regione Friuli Venezia Giulia ha fatto la sua parte fino in fondo tant'è che è stata praticamente la regione pilota quella che per prima ha dato l'avvio a questo tipo di riforma però i simboli delle province sono stati ripresi chiedo al maestro Alvaro Cardini maestro di vita ovviamente anche della politica sindaco emerito della città di Pordenone che cosa ne pensa allora di questa situazione il ruolo fondamentale della provincia cassato abolito ma qualcuno insomma i simboli non li ha dimenticati anzi li ha ripresi sì non sempre essere i primi coincide con il successo delle iniziative e io credo che anche per quanto riguarda il caso specifico la ripresa dei simboli sia un primo atto che bisogna riconoscere va nella direzione diciamo di un recupero di quella che è l'identità delle quattro province che hanno contraddistinto fino ad oggi o meglio fino a settimana o mese o anno fa ecco la nostra realtà territoriale ecco io credo quindi che si debba assolutamente ripensare il modello così come era stato a suo tempo e l'ho già detto anche in altre circostanze dal presidente Biasutti ecco che appunto era un modello che teneva conto di che cosa del ripristino delle province naturalmente non tanto considerate come entità diciamolo pure legate solamente a due aspetti quello della viabilità e quello della scuola ma soprattutto o meglio quello dell'edilizia scolastica ma ne fossero diciamo così incluse nell'ambito diciamolo pure di un progetto un po' più articolato e più ampio di gestione vera e propria lasciando alla regione il giusto compito di legiferare di programmare e di controllare ecco lo abbiamo visto anche in questi giorni in diverse iniziative che riguardano ahimè anche i fatti diciamo così dei nubi fragili eccetera non c'è niente da fare la regione sembra vicina ma qualche volta anzi frequentemente è lontana quindi bisogna assolutamente rimettere nelle condizioni il territorio di gestire la propria realtà al meglio delle possibilità e delle opportunità quindi per farla breve a un certo punto è il caso di dire che a seguito del discorso introdotto con i simboli che sono sicuramente già un primo atto significativo vanno ripresi anche alcuni aspetti di carattere gestionale da conferire alle province le province hanno secondo me la possibilità concreta di essere più vicine al territorio più vicine all'utenza più vicine in poche parole ai cittadini e quindi sotto questo profilo non le vedrei diciamolo pure così come era una moda anche nel recente passato di dire bisogna abolirle bisogna abolirle oggi c'è una moda abbastanza disinvolta di dire bisogna abolire questo bisogna abolire quest'altro aboliamo o riduciamo addirittura del 50% o presso poco così il senato la camera e avanti di questo passo c'è ripeto bisogno di riportare le cose a un equilibrio e un modo di intendere le situazioni siano tali da consentire diciamolo pure una operatività concreta ma soprattutto vicina a quelle che sono le esigenze della gente ecco io credo che sotto questo profilo l'istituzione della provincia delle province naturalmente di tutto il frivolo di Venezia Giulia ci sono fatto auspicabile in tempi relativamente brevi abbiamo ancora pochissimi secondi un flash proprio le novità che riguardano l'università il simbolo tra le altre cose non soltanto della nostra provincia stessa ma soprattutto simbolo di Pordenone si è parlato molto del consorzio universitario perdonese in questi ultimi mesi io non mi si dica presuntuoso ma falso modesto però diciamo ne sono stato il fondatore al suo tempo e quindi è chiaro che la cosa mi sta particolarmente a cuore e l'ho sempre seguita con estrema attenzione credo che anche la pubblicità che in questo periodo soprattutto l'università di Trieste sta facendo per quanto riguarda il suo Ateneo ecco vada nella direzione di una ricerca diciamo così di potenziare le strutture universitarie non solamente di Trieste e di Udine ma anche di Gorizia e di Pordenone ecco per quanto riguarda specificamente Pordenone ecco io credo che il consorzio si stia muovendo abbastanza bene e quindi possa sicuramente anche nelle prospettive del tempo che viene ecco andare nella direzione giusta una proposta l'ho già fatta in altre circostanze e la ripeto perché mi pare estremamente interessante e qualificante per dare diciamo così ulteriore corpo e sostanza al consorzio ecco è quella appunto di istituire una facoltà di formazione dei manager pubblici ci ce ne è bisogno ci sono tante situazioni critiche eccetera anche in questo periodo legate appunto a questo fatto dei manager pubblici ecco io credo che potrebbe essere Pordenone proprio da questo punto di vista la prima o comunque una delle prime in Italia a qualificarsi in questo senso Alvaro Cardin grazie sindaco a merito della città di Pordenone ci vediamo nei prossimi appuntamenti e ovviamente l'università ma anche il teatro verdi di Pordenone Pordenone riparte dalla cultura oggi è stata presentata la nuova stagione teatrale proprio del teatro stesso che porterà sul palco di Pordenone grandi nomi tra cui Claudio Bisio maestro Nicola Piovani premio Oscar per le musiche della vita è bella non vi anticipo niente guardatevi il servizio realizzato da Tania Pellegrini sono molto felice che finalmente il teatro possa ripartire in realtà non si è mai fermato ma naturalmente ci mancavano gli spettatori gli spettatori finalmente avranno la possibilità di tornare con un programma organico abbiamo messo insieme fra musica e prosa quasi 20 appuntamenti da settembre a dicembre speriamo che questi appuntamenti siano graditi dagli spettatori che possano così avere voglia di ritornare a stare insieme a noi insieme agli artisti io ho basato la programmazione trimestrale e andrò anche avanti su questo filo rosso su la voce umana quindi la voce lirica come concetto di espressività massima e l'anniversario Beethoven pensando anche a un Beethoven che di solito non si ascolta così di frequente e abbiamo voluto come teatro dare un messaggio secondo cui la prima categoria da proteggere era l'artista per cui l'artista deve lavorare e guadagnarsi da vivere indipendentemente da quante persone possono accedere al concerto e credo che in questo poter inaugurare con il Gloria di Vivaldi e Dixit Dominus di Handel attraverso la fondazione Ghislieri che ha vinto il premio Abbiati della critica nel 2019 quindi strumenti originali e qualche cosa di glorioso e anche di buon auspicio sia un bel modo per far vedere che non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo neanche dopo con il maestro Nicola Piovani premio Oscar è compositore c'è tanta voglia di tornare a teatro tanta voglia di tornare a godersi spettacoli dal vivo lei personalmente come artista come vive questa ripartenza questo tornare a fare performance davanti a un pubblico beh la ripartenza è bella se fosse sarebbe bella se fosse una totale ripartenza una ripartenza parziale una ripartenza contingentata è una ripartenza eroica perché per riuscire a fare spettacoli con una sedia sì una sedia no rispettando tutte le regole anche in palcoscenico ci vuole uno sforzo triplo di prima ma insomma tutto questo secondo me si fa e è giusto farlo in attesa che arrivi presto la primavera io conto che arrivi la primavera ci porti il teatro come era prima affollato di persone che stanno sedute vicine che possono tossire con libertà che i cantanti i cori possano cantare le orchestre possano suonare però nel frattempo è giusto questa è giusta questa resilienza tenere vivo quello che si può tenere vivo e se no i teatri diventano tombe il suo spettacolo può anticipare qualcosa che cosa che cosa vuole portare sul palco del Verdi di Pordenone è uno spettacolo di musica teatrale in realtà è uno spettacolo di teatro dove le parole sono tante e anche la musica è tanta uno stesso peso è uno spettacolo che ha debuttato cinque anni fa e la la scommessa diciamo è farlo vivere teatralmente perché quando è vivo teatralmente il pubblico ti dà qualcosa noi l'abbiamo l'abbiamo portato un po' dovunque in Italia fuori d'Italia questo spettacolo e se guardiamo l'edizione di quando ha debuttato vediamo quanto è diversa da questa perché appunto il pubblico scrive lo spettacolo se c'è questo segno aperto fra artisti e pubblico fra pubblico e artisti c'è teatro la responsabilità degli insegnanti anno scolastico come già si diceva ormai prossimo a ripartire ci sono gli esami riparazione recupero e quant'altro ma questo è un altro discorso effettivamente l'anno scolastico tra qualche giorno comincia la responsabilità degli insegnanti e del personale che ci lavora all'interno della scuola l'avvocato Margherita Cusin ce le elenca coda con il friuli occidentale ben ritrovata grazie allora le responsabilità sono diverse a seconda del ruolo che si assume quella del dirigente scolastico che è il datore di lavoro degli operatori scolastici quelle degli operatori quelle degli insegnanti ognuno per la propria mansione la responsabilità si modula a seconda dell'età degli alunni quindi più i bambini sono piccoli più gli insegnanti gli operatori devono accudirli con maggiore attenzione il rapporto che si instaura tra insegnante operatore scolastico e alunno è un rapporto cosiddetto di contatto ne nasce un vincolo giuridico che sorge nel momento in cui l'alunno si iscrive a scuola e sorge da questo una responsabilità di tipo contrattuale cosa vuol dire che nel caso in cui l'alunno si faccia male o faccia male a terzi l'alunno potrà citare o chi per esso il genitore o un tutore l'insegnante o l'operatore scolastico che non abbia vigilato secondo le dovute maniere e dovrà semplicemente dimostrare che il fatto ad esempio una caduta un incidente è avvenuto nell'orario scolastico e all'interno degli edifici scolastici come può l'insegnante e l'operatore sanitario giustificare e discolparsi semplicemente dimostrando di aver assunto tutte quelle condotte prudenziali volte a verificare che i comportamenti degli alunni fossero prudenti volte a verificare che i luoghi fossero consoni fossero dati basti pensare finestre aperte situazioni di rischio pericolanti pavimenti bagnati ecco l'insegnante e gli operatori hanno il dovere anche di prevenire il rischio e valutarlo per quanto riguarda l'attuale emergenza covid come sappiamo le scuole dovranno nominare il cosiddetto referente covid che ha il compito di aiutare collaborare con l'azienda sanitaria e il dipartimento di prevenzione per quale scopo per evitare che vi siano contagi e focolai all'interno delle scuole come si fa bisogna monitorare la situazione di salute di alunni e operatori quindi nel momento in cui gli insegnanti e gli operatori vengono a conoscenza di febbre degli alunni o sintomi influenzali immediatamente devono darne conto al referente così come nel caso delle assenze andrà tenuto un registro quotidiano che stabilirà se c'è un numero troppo elevato di assenze in quale classe il referente dovrà indicarlo al dipartimento ecco se vengono rispettati i protocolli le linee guide sia il referente che il dirigente potranno giustificare il proprio operato e appunto evitare di incorrere in pericoli di essere citati per il risarcimento del danno Avvocato Grazie ne parleremo ancora nei prossimi appuntamenti Margherita Cusin del Codacons del Friuli Occidentale vi lascio adesso in compagnia del collega della redazione del Veneto che chiuderà questa prima parte con il suo ospite a seguire le previsioni del tempo un breve breve pubblicitario e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto grazie ancora per essere stati con noi Sì, prima di parlare con Fabio Pivetta chiediamo il benvenuto ovviamente assessore comunale a Cinto Camaggiore diamo una notizia dell'ultima ora di cronaca perché a Concordia Sagittaria attorno alle 19 si è verificato un incidente che ha visto coinvolto uno scooter e un'auto abbiamo anche una foto che c'è arrivata in redazione un sinistro accaduto in via San Pietro trattasi come detto poc'anzi di uno scontro tra un'auto ossia una lanciamusia e uno scooter Piaggio ferito il conducente del secondo mezzo dello scooter un 17enne del posto che viaggiava come detto in sella alla due ruote con una coetanea di caorle rimasta illesa così come la conducente dell'auto guidata da una 58enne di Concordia ferito invece il 17enne che guidava lo scooter Piaggio che al momento si trova in ospedale a Portoguaro per le cure del caso le condizioni fortunatamente non sarebbero gravi in corso i rilievi da parte della polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente a proposito di incidente una mancata precedenza sarebbe invece all'origine di un altro sinistro che è accaduto attorno alle 14 di oggi a Concordia in località sindacale che ha provocato il ferimento di due guidatori un 38enne di Portoguaro alla guida di una Golf e una donna di 48 anni di Caole alla guida di un Audi gli operatori sanitari del pronto soccorso di Portoguaro hanno raggiunto la zona con due ambulanze entrambi sono stati ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita i rilievi eseguiti anche qui dalla polizia locale a proposito di cronaca salvataggio oggi a Bibione a Lido del Sole una donna tratta in salvo da un bagnino una turista tedesca che è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Portoguaro una 73enne che nuotava quando attorno alle 15 ha incontrato delle improvvise difficoltà alla scena ha assistito a un bagnino della Bibione spiaggia che la poi tratta in salvo anche in questo caso la donna si trova nell'ospedale della città dell'Emene ben trovato dunque Fabio Pivetta dopo questi brevi aggiornamenti di cronaca perché si parla di coronavirus si parla di ripresa si parla anche però di cittadini che hanno bisogno di aiuto anche dopo la stagione e so che a Cinto Calma Maggiore state pensando insomma a dei buoni in questo senso si grazie un augurio a tutte le persone coinvolte tra l'altro in questi incidenti di varia natura si proprio in questi giorni ho fatto un po' il punto con l'assistente sociale del Comune rispetto un po' a una ricognizione delle eventuali disponibilità di fondi e sia un po' per avere il polso della situazione su come a estate pressoché finita o comunque ormai sulla via proprio del tramonto su come effettivamente quelle criticità che si paventavano un po' verso l'inizio metà d'estate si siano poi effettivamente risolte o permangono allora in realtà sembra che ci siano alcuni nuclei che fanno fatica e hanno fatto fatica a trovare un equilibrio quindi a trovare una risposta sul mondo del lavoro fortunatamente noi abbiamo gestito in modo particolare i fondi covid disposti dalla protezione civile ancora a metà fine primavera e abbiamo ancora disponibilità di circa 6.000 euro che sono utilizzabili per buoni alimentari nel caso in cui con istruttoria da parte dell'ufficio dell'assistente sociale si ravvisi la necessità di poter erogare quindi come dire intervenire in aiuto in questo senso e credo che con settembre ottobre soprattutto si faranno un po' i conti e credo che la situazione non sia così entusiasmante e quindi bene avere come dire un po' di fondo e aver fatto un po' le formichine anche perché abbiamo preferito tenere questi fondi proprio per la situazione Covid mentre le situazioni sociali di altro tipo vanno gestite con altri strumenti poi c'è anche la parità del riscaldamento che magari può vedervi protagonisti sì infatti abbiamo deciso anche di far partire veramente questione insomma di qualche giorno giusto per aggiustare alcune questioni burocratiche far partire un bonus un bando per il riscaldamento quest'anno sarà omnicomprensivo introdurremo come dire la possibilità di chiedere un rimborso sulle spese sostenute nel 2019 su base ISEE di limite circa 9000 euro sia per chi utilizza gas da rete di distribuzione sia per chi utilizza il GPL con bombolone sia per chi utilizza con vecchi impianti però per vari motivi non ha possibilità di ammodernarsi il gasolio e anche per la legna chiaramente però su questi tipi di forniture che non sono facilmente rintracciabili perché la bolletta è di un punto di consegna eccetera lì chiaramente oltre una serie di autodichiarazioni potremmo e vorremmo anche disporre qualche controllo campione perché insomma ci sta nella giustizia di tutti verificare che il denaro pubblico circa 6.000 euro sia speso effettivamente per chi ha una necessità che siano 6.000 che siano 100 che siano 1 è il principio che conta giusto grazie grazie a Fabio Pivetta grazie buonasera per essere stato con noi chiudiamo questa prima parte linea subito dunque alla regia e dopo le previsioni del tempo il break publicitario si continua ancora con l'informazione prima daudine poi si torna vi aspettiamo ovviamente qui nel Manhattan arrivederci buonasera buonasera a tutti la presenza della depressione sul centro d'Europa mantiene continua a mantenere sul nord Italia una certa instabilità l'abbiamo visto già questa notte con i temporali in pianura e anche questa mattina nel perdononese nel pomeriggio qualche locale rovescio in Carnia e sul zona montana e sul carso sloveno ci aspettiamo ancora nelle prossime ore un po' di instabilità per la presenza di aria fresca in quota quindi sarà possibile ancora qualche pioggia locale o qualche rovescio temporale poi domani giovedì arriverà aria più umita in quota la depressione si sposta verso l'est Europa rimonta l'anticiclone atlantico e quindi porterà una maggiore stabilità quindi al mattino forse la residua nuvolosità poi dal pomeriggio bel tempo su tutta la regione anche se in montagna rimane un residuo di rischio di qualche breve locale pioggia o qualche rovescio temporalesco ma direi comunque con una bassa probabilità temperature massime che vanno leggermente aumentando durante la notte al mattino sulla costa potrebbe soffiare un po' di burino e poi brezza nel pomeriggio venerdì e sabato dovrebbe dominare l'anticiclone con l'aria mite in quota e quindi bel tempo sulla nostra regione con cielo sereno sia venerdì che sabato quindi con tempo bello temperatura in progressivo aumento nella giornata di sabato fino a quasi 30 gradi in pianura è tutto buona serata ben ritrovati dunque dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste partiamo con la cronaca vendevano droga in casa arrestati un uomo giovanissimo di 19 anni e denunciata una donna la polizia di stato di Trieste è rivenuto nell'appartamento dell'uomo 300 grammi di marijuana e 2200 euro in banconote di piccolo taglio vediamo il servizio spacciavano droga da casa un arresto e una denuncia è il bilancio dell'operazione della polizia di stato di Trieste che ha sequestrato circa 300 grammi di marijuana e oltre 2200 euro in banconote di piccolo taglio oltre a un bilancino elettronico di precisione al materiale per il confezionamento nel corso di un servizio antidroga della squadra mobile della Questura gli agenti avevano notato un giovane conosciuto come assuntore di stupefacenti mentre usciva da un palazzo di via Valmaura alla vista dei poliziotti aveva cercato di svicolare nascondendosi dietro alle auto ma era stato fermato e sottoposto al controllo addosso aveva circa 9 grammi di marijuana gli investigatori sono riusciti a individuare l'appartamento dove poco prima aveva acquistato la droga ed intesa con il PM di turno hanno effettuato una perquisizione in casa c'era un italiano classe 2001 con precedenti specifici apparso particolarmente nervoso in cucina una donna classe 1983 anche lei gravata da precedenti sul tavolo del soggiorno gli agenti hanno trovato un primo sacchetto con oltre 80 grammi di marijuana un bilancino di precisione e del cello fanno utilizzato per confezionare le dosi mentre nella spazzatura c'erano altri due involucri con circa 200 grammi di marijuana pochi altri grammi di sostanza sono stati trovati nella camera del ragazzo nell'appartamento c'erano complessivamente oltre 2200 euro in banconote di piccolo taglio custoditi tra portafogli scatole di medicinali e sotto il cuscino della donna gli agenti hanno sequestrato lo stupefacente il denaro il bilancino e il materiale usato per il confezionamento il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Trieste a disposizione della procura della Repubblica che coordina le indagini mentre la donna è stata denunciata sempre per detenzione a fini di spaccio di droga e al via la stagione venatoria in tutta la nostra regione molte sono le raccomandazioni che sono state rivolte dalle autorità competenti ai cacciatori vediamo il servizio all'apertura della stagione della caccia il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza Federcaccia regionale Salvatore Salerno ha predisposto e messo a punto un piano di controlli sul territorio per garantire il rispetto della normativa lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza e la prevenzione e repressione dei possibili reati una trentina di agenti di Federcaccia in regione di cui metà in provincia di Udine sono pronti a vigilare sul rispetto delle norme in materia venatoria Salerno ricorda in particolare l'obbligo di tenersi a distanza di almeno 100 metri dai mobili fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili e 150 metri nel caso dello sparo in direzione delle stesse l'invito ai cacciatori è poi a verificare che la licenza sia in corso di validità che la copertura assicurativa non sia scaduta a non danneggiare i campi di attività di cultura e a non abbandonare sul posto i bossoli esplosi e gli involucri del genere di conforto Salerno fa inoltre sapere che con la legge regionale 3 del 2016 viene riconosciuta alle guardie venatorie ambientali la competenza su tutto il territorio regionale con il coordinamento del corpo forestale in stretta collaborazione con gli altri organi di vigilanza gli agenti di Federcaccia in forma ancora Salerno sono operativi durante tutto l'anno per servizi di controllo e prevenzione e hanno la qualifica di pubblico ufficiale e di polizia giudiziaria si tratta di un'attività di grande importanza aggiunge il presidente regionale di Federcaccia FVG Paolo Viezzi ricordando che le guardie sempre adeguatamente qualificate e tenute a partecipare ai diversi corsi di aggiornamento sono dotate di un automezzo di servizio ben identificabile il servizio di vigilanza a disposizione con i propri agenti che possono essere contattati al 331-3504-109 rinnova anche la campagna contro l'abbandono abbandonare un animale significa molto spesso lasciarlo ad un destino incerto e ad una possibile situazione di pericolo perché si ritrova all'improvviso in un luogo sconosciuto e senza più riferimenti confuso spaventato potrebbe diventare facile vittima di incidenti nonostante l'entrata in vagore della legge 189 del 2004 che prevede la pena fino a un anno di reclusione per il reato di abbandono purtroppo ancora oggi sono molti gli abbandoni di animali e si registra un particolare incremento degli abbandoni di gatti il mese di settembre è un mese molto interessante per le manifestazioni in particolare questa che ha a che fare con il comune di Udine o meglio con un borgo molto bello della stessa città il borgo Aquileia vediamo che cosa succederà in questo mese di settembre Udine sotto le stelle pallavolo scherma tennis da tavolo judo basket danza parkour il mese di settembre in via Aquileia a Udine sarà interamente dedicato allo sport ai campioni friulani presenti Mara Navarria e Silvio Fauner e alle società del territorio ospiti d'eccezione gli special Olympics FWG che racconteranno che cosa significa per loro lo sport siamo partiti con la programmazione a luglio e per ben due mesi agosto compreso abbiamo proposto un fitto calendario fatto di appuntamenti culturali enogastronomici e musicali per il nuovo mese abbiamo voluto cambiare registro pur mantenendo alcuni degli eventi che nelle scorse settimane hanno accompagnato il weekend del Borgo ha fatto sapere Antonella Fierro rappresentante del Borgo durante la conferenza stampa di presentazione della programmazione settembrina tenutasi stamattina in via Aquileia realizzata grazie al coordinamento di Confesercenti Udine e in collaborazione con il Comune l'Arlef Aghinchia Regional Perlenghe Furlane e l'associazione Amici del Borgo Aquileia grande successo per l'iniziativa Parole in Vetta Musica in Quota e Sapori e Valle che ha visto protagonisti grandi personaggi del mondo della narrativa ma anche della gastronomia dello sport e della musica lo scorso weekend a Sappada vediamo il servizio Ha sfidato il tempo e ha avuto la meglio la prima edizione del Festival della Montagna del Friuli Venezia Giulia Parole in Vetta Musica in Quota e Sapori a Valle conclusosi domenica dopo tre giorni di appuntamenti dedicati alla narrativa alla musica allo sport e alla gastronomia svoltisi a Sappada 14 ospiti di levatura internazionale un pubblico che in tre giorni ha superato le mille persone e la partecipazione dell'intera comunità locale sono i numeri della manifestazione ideata da giochi di parole con il sostegno di Promoturismo FWG per la promozione della montagna e del suo valore Nella giornata di domenica nonostante il mal tempo l'appuntamento con la campionessa olimpica Manuela Di Centa la scrittrice Raffaella Carnielutti il tenore parigino Amadi Laga per la prima volta in Friuli Venezia Giulia la violinista giapponese Mariko Masuda il violoncellista Antonio Merici e la chef stellata Fabrizia Meroi ha riempito il palazzetto dello sport entusiasmando il pubblico con la passione con cui gli ospiti hanno raccontato ognuno con i propri talenti la montagna vissuta quella di domenica è stata la giornata dedicata alle donne con l'eccezione del tenore Laga e di Merici che hanno omaggiato le protagoniste del mondo montano con l'esecuzione e l'accompagnamento di famose arie come Un amore così grande Con te partirò e Nessun Dorma dalla Turandot con una standing ovation degli spettatori commossi dalla bravura degli interpreti si sono conclusi i tre giorni di festival che nei due giorni precedenti hanno regalato grandi emozioni al pubblico presente venerdì i campioni olimpici Silvio Fauner e Pietro Piller-Cotter hanno appassionato i tanti ospiti dalla bellissima piazzetta Offe con le loro imprese sportive raccontando aneddoti e ricordi delle loro nove medaglie olimpiche lo spettacolo è stato animato dal gruppetto folkloristico Olzoccar e dalla banda di Sappada con brani di un repertorio interamente dedicati alla montagna era presente anche l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini che applaudendo l'iniziativa ha evidenziato come la stessa sia un ulteriore importante tassello per la promozione di Sappada e della montagna del Friuli Venezia Giulia in questa estate che nonostante le difficoltà legate all'emergenza coronavirus sta mostrando un andamento molto incoraggiante nella giornata di sabato invece Mauro Corona Gigi Maieron e Tony Capuozzo quest'ultimo in collegamento video hanno incantato e a volte divertito il pubblico raccontando storie di una montagna vera ma che spesso a volte troppo spesso risulta difficile da essere vissuta entusiasta dello spettacolo si è dimostrata l'assessore del regionale alle finanze Barbara Zilli presente in prima fila anche la gastronomia ha avuto un ruolo da protagonista nel corso dell'evento con la partecipazione della chef stellata Fabrizia Meroi e dello chef Stefano Basello che hanno interpretato ognuno a modo suo il piatto tipico sappadino Gepitschka Krofn facendolo anche assaggiare i numerosi spettatori Grande Cura è stata dedicata all'allestimento del palco dove spiccavano le sedute di abete bianco e rosso realizzate con il legname autoctono Gli X-Tour una band friulana alla ribalta con un nuovo singolo è infatti in uscita il videoclip relativo al loro ultimo singolo vediamo di che cosa si tratta sarà pubblicato il 4 settembre prossimo sulle piattaforme online Verità il nuovo videoclip della rock band The X-Tour giunta già alla sua quinta pubblicazione il video girato dal filmmaker gemonese Gabriele Tiso nel locale birreria Miriam Buia a Buia vede la partecipazione di Dario Zampa ripreso nella trama del video mentre è impegnato a scrivere su un quaderno la lettera d'amore per la sua compagna interpretata dalla comica e attrice Caterina Cattine e Tomasuolo insieme a Zampa e Cattine nelle riprese sono stati coinvolti anche altri musicisti dell'area del gemonese tra cui Edi Toffoli già autore di brani per i nomadi il brano Verità scritto dal cantante degli X-Tour Flavio Cagnelutti è stato prodotto dal notofonico Tormezino Valentino Cimenti la band degli X-Tour è nata nel 2015 attualmente è composta da Flavio Cagnelutti alla voce Fabio Marchetti alla chitarra Diego Boezio alle tastiere Fabio Not alla chitarra Lorenzo Bisello al basso e Cristian Cagnelutti ha indicato i brani Raxex Valentine Nice Days e Alice Sidroga che sono già visibili sulle piattaforme online Dopo la deposizione ufficiale delle liste delle candidature alle elezioni amministrative regionali in vista del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari previsto per i prossimi 20 e 21 settembre in Veneto e in Friuli Venezia Giulia la nostra emittente darà l'opportunità ai candidati di prendere parte ai dibattiti precisando che tutti indistintamente potranno accedere ai programmi di informazione che verranno trasmessi ai candidati verranno messi a disposizione tre giorni alla settimana con dibattito fra di loro in diretta nella redazione a loro più comoda fra quelle di Udine Pordenone e Portogruaro dalle ore 21 e 10 alle ore 22 le date sono in fase di definizione le informazioni verranno comunicate dalle tre redazioni l'emittente dà la possibilità ai candidati e partiti di realizzare spot e rubriche autogestite a pagamento nelle ore pomeridiane della durata di 15 minuti ciascuna in onda dalle 21 e 10 alle 22 per tutte le informazioni su costi e listini è possibile contattare le tre redazioni ai numeri che vedete in sovraimpressione e per ora è tutto dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone come di consueto la linea va ai colleghi del Veneto Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto continua l'informazione di Telepordenone nelle ultime 24 ore sono 163 nuovi positivi da Covid-19 il numero è stato ufficializzato dal governatore Luca Zaia nel corso del punto sull'andamento della pandemia all'unità di crisi di Marghera i tamponi eseguiti fino ad ora sono quasi 3 milioni se si prendono a riferimenti test rapidi e i classici tamponi e sull'effetto del coronavirus pesano i vacanzieri che sono la maggioranza dei nuovi positivi nelle scuole 31 mila le persone testate in isolamento se si considerano le 7 province ci sono oltre 7.600 persone di questi i sintomatici ci sono 117 ricoverati 152 due in più di ieri le terapie intensive vedono al loro interno 13 pazienti sul capitolo dedicato alla scuola la regione ha reso noto le linee guida per i bambini da 0 a 6 anni la febbre verrà misurata negli istituti mentre per gli allunni più grandi direttamente a casa seguendo un patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie se lo studente presenta sintomi covid lo stesso viene isolato in una stanza ad hoc e sottoposto a tampone rapido in caso di positività si darà via alla ricerca diagnostica di tutti i contatti la classe non sarà automaticamente chiusa ma si eseguirà l'indagine di compagni su compagni e professori nei plessi scolastici verranno individuate due figure una del dipartimento di sicurezza e uno dell'istituto che collaboreranno appunto in casi relativi al coronavirus l'infezione da virus dell'epatite C invece è molto più diffusa di quanto si ritenga la conclusione a cui è arrivata un'indagine effettuata dai medici della gastroenterologia dell'ospedale dell'angelo di Mestre con la collaborazione del laboratorio analisi della microbiologia il tasso di positività misurata su 11.000 pazienti ricoverati nell'area chirurgica dell'ospedale si è attestato al 2,2% contro una prevalenza per territorio veneziano stimata attorno allo 0,7 o 1% la prevalenza di questa infezione è dunque superiore a quella attesa ha affermato il primario Alessandro Caroli che ha ideato e diretto lo studio scientifico la maggioranza dei pazienti identificati non era al corrente dell'infezione che spesso decorre subdola e senza sintomi morte di Filippo D'Averio cordoglio anche in Veneto a fronte di una figura davvero di gigante della cultura anche il Veneto ricorda con commozione e cordoglio la scomparsa all'età di 71 anni di Filippo D'Averio deceduto questa notte all'istituto dei tumori di Milano lo storico dell'arte ex assessore della cultura del comune di Milano aveva frequentato il Veneto di Filippo D'Averio mi resterà impressa la sensazione che ho provato nelle occasioni che ho avuto di incontrarlo personalmente ha ricordato il governatore Zaia un dialogo con lui lasciava sempre l'impressione di aver trovato il modo di leggere un libro in maniera rapida ma molto approfondita e sempre esaustiva sentirlo parlare sembrava quasi che rendesse banale ogni spiegazione in qualsiasi ambito artistico culturale eppure lo faceva senza venire mai meno a rigore di studioso nato in Alsazia da padre italiano e mamma francese D'Averio aveva aperto a Milano la galleria che porta il suo nome in via Monte Napoleone specializzata nelle avanguardie del novecento raffinato uomo di cultura ed esperto di comunicazione era tra l'altro legatissimo proprio a Venezia e al Veneto in generale regione in cui si recava spesso amabile conversatore ed esperto di cucina sapeva coniugare la rigida analisi storica dell'arte alla scioltezza della conversazione particolare che ne aveva fatto uno dei più notti divulgatori dell'arte italiana ed europea è stato ricoverato ieri sera a Dolun 26enne di origini napoletane residente a Bibione risultato positivo al tampone dopo una festa di fine estate verranno sottoposti all'esame sia la compagna sia i partecipanti al party la notizia segue di poche ore il contagio che ha riguardato a Porto Gruaro due adolescenti di 14 e 17 anni questi ragazzi non sono gravi e sono ristretti a casa ben diversa la situazione del 26enne che si è stabilito a Bibione dopo aver ottenuto un posto di lavoro fisso l'uomo ha cominciato a manifestare i sintomi tipici del covid-19 a inizio settimana si è sottoposto a tampone all'ospedale di Porto Gruaro ieri mattina gli operatori sanitari hanno poi rilevato uno stato febbrile di 39 gradi il pronto soccorso ha attrezzato un'ambulanza per trasferire il paziente all'ospedale di Dolo dove tuttora risulta ricoverato a proposito di coronavirus sul territorio due casi anche a Sanstino di Livenza Fiere di Sandonà tutto pronto per l'edizione 2020 di un appuntamento a chilometro zero come ha specificato oggi in una nota il Comune sarà un'edizione speciale quella delle Fiere 2020 che seppur vincolata alle norme di sicurezza e di prevenzione vigenti sul territorio permetterà ai sandonatesi di vivere giornata all'insegna della socialità del divertimento della cultura questa l'idea alla base dell'edizione 2020 come già preannunciato stiamo lavorando da tempo con più incontri fa sapere il Comune per consentire lo svolgimento di un'edizione che seppur non nella forma tradizionale rappresenti un'opportunità per la comunità nel rispetto della sicurezza e dell'attuale situazione sanitaria a breve completate le ultime verifiche si chiuderà il programma definitivo delle iniziative che assumeranno la caratteristica di eventi diffusi in città a proposito di Sandona di Piave la città ospiterà dall'11 al 13 settembre anche l'evento Terre Evolute Festival della Bonifica Anche quest'anno Terre Evolute Festival della Bonifica sarà presente a Sandona di Piave dall'11 al 13 settembre saremo qui tutti insieme in Piazza Indipendenza e negli altri luoghi dedicati al festival per parlare ancora una volta insieme di bonifica di sviluppo sostenibile di una qualità della vita migliore l'idea quest'anno in particolare purtroppo avendo dovuto lottare con l'emergenza sanitaria è quella comunque di mantenere vivo l'interesse per queste tematiche quindi come sempre organizzando tour organizzando eventi divulgativi in piazza avendo contatti per quanto possibile anche con le scuole abbiamo cercato di costruire insieme questa terza edizione in particolare questa edizione sarà caratterizzata dall'interesse dal rapporto tra Terre Evolute quindi Bonifica Mondo della Bonifica e Agenda 2030 quindi l'Agenda 2030 che viene dal programma del 2015 dal programma d'azione dell'ONU e che prevede quindi un interesse di tutta la collettività per appunto uno sviluppo sostenibile la Bonifica come si rapporta con questo sviluppo sostenibile ecco che i tecnici gli esperti del mondo della Bonifica dialogheranno insieme con l'Accademia e questa sarà un'occasione e l'inizio di un lavoro che ci porterà al 2022 per festeggiare assieme il centenario appunto del famoso convegno che nel 1922 ha segnato un momento davvero importante per lo sviluppo della Bonifica contemporanea Siamo ormai alle porte del Festival della Bonifica che si svolgerà dall'11 al 13 di settembre quest'anno in collaborazione assieme ad Ambi ci sarà l'Università di Padova ci saranno una serie di eventi che vanno dai spettacoli a convegni e soprattutto una tavola rotonda con il comitato scientifico che è stato incaricato di traghettare ecco di preparare il terreno per un nuovo un nuovo progetto per la Bonifica Integrata che ha il suo centenario celebrerà il suo centenario nel 2022 ricordo che nel 1922 è stata è partita da quel famoso congresso che si è tenuto a San Donato di Piave nel marzo del 1922 la Bonifica Integrata che è la Bonifica che pian piano siamo riusciti a sviluppare fino a questi tempi ai tempi nostri forse è il caso ecco ci siamo chiesti di guardare un pochettino al passato vedere cosa è cambiato e riprogrammare il futuro e questo lo vogliamo fare con tutte le forze sociali e produttive che hanno qualcosa da dire e da proporre per i prossimi decenni il Tar del Veneto ha sospeso la caccia a 5 delle 7 specie autorizzate nelle giornate di preapertura del calendario venatorio 2020-2021 lo rende noto la regione accogliendo il ricorso delle associazioni ambientaliste la prima sezione del Tribunale Amministrativo regionale del Veneto presieduto da Maddalena Filippi ha annunciato a partire da oggi l'abbattimento in preapertura della specie della Gaza della Ghiandaia della Cornacchia grigia e nera nonché della Tortora Selvatica era il vecchio direttore del Consorzio di Bonifica di San Michele Morsano dal 1975 al 1992 per questo anche nel territorio morsanese oltre che in Veneto orientale ricordato l'ingegnere Roberto Cecchinato aveva 90 anni abitava a Teglio Veneto si è spento in questi giorni all'ospedale civile di Portogruaro città in cui aveva vissuto teneva molto alla friulanità di quel consorzio che poi fu inglobato nella pianura veneta ricorda Sergio Grego attuale direttore del Consorzio di Bonifica del Veneto orientale Roberto Cecchinato è stata una nobile figura che ha fatto molto per le opere idrauliche interregionali Cecchinato andava molto orgoglioso della collaborazione con il comune di Morsano località che amava frequentare anche dopo il conseguimento della pensione Cultura gli imprenditori veneziani leggono la cinquina del Campiello ai giardini della Biennale allora vediamo i finalisti nel servizio in attesa di scoprire il nome del vincitore della 58esima edizione del premio Campiello il Comitato Cultura di Confindustria Venezia si è riunito nell'ormai tradizionale incontro dedicato alla lettura di brani tratti dalla cinquina finalista l'evento si è svolto al Padiglione Venezia nei giardini della Biennale che in questo periodo ospitano un ricco palinsesto di attività culturali attraverso il dibattito sui testi i presenti hanno potuto apprezzare i passaggi più significativi delle opere selezionate dalla giuria dei letterati con passi giapponesi di Patrizia Cavalli sommersione di Sandro Frizziero tra lume scuro ballata per un paese al tramonto di Francesco Guccini vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino e l'incanto del pesce luna di Ade Zeno fra gli ospiti Piero Luxardo presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello e Lorenzo Tomasin componente della giuria dei letterati all'evento ha preso parte anche la giornalista Alda Vanzan che ha presentato il suo ultimo libro La Boccardi il volume è la biografia di Luciana Crovato Boccardi scrittrice cronista veneziana esperta di moda che proprio alla Biennale ha visto iniziale la sua carriera ringrazio gli imprenditori presenti ha dichiarato Silvia Bolla presidente del Comitato di Confindustria Venezia attraverso la contaminazione tra realtà e linguaggi diversi possiamo trarre l'ossigeno necessario per affrontare le sfide della quotidianità la cultura permette di superare tutti i limiti per questo è fondamentale continuare a nutrire la nostra mente Caorle domani alle 20.45 terzo appuntamento nell'auditorium delle cantine di Cacorniani con la presentazione del libro Cacorniani tre secoli di storia e trasformazioni scritto dallo storico locale Paolo Gusso appassionato di storia con alle spalle diverse pubblicazioni sul Veneto orientale l'architetto racconterà il lungo lavoro che ha portato la località a tracciare la lunga storia dell'azienda omonima e le vicende che l'hanno portata ai giorni nostri passando dalle storiche bonifiche con la deposizione ufficiale delle liste e delle candidature alle elezioni regionali e amministrative in vista del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari previsto per il prossimo 20 e 21 settembre in Veneto e in Friuli Venezia Giulia la nostra emittente dà l'opportunità ai candidati di prendere parte ai dibattiti precisando che tutti indistintamente potranno accedere ai programmi di informazione che verranno trasmessi ai candidati verranno messi a disposizione tre giorni alla settimana con dibattito fra di loro in diretta nella redazione più comoda fra quella di Udine Pordenone Porto Gruaro dalle ore 21 e 10 alle 22 le date sono in fase di definizione le informazioni verranno comunicate dalle tre redazioni l'emittente dà la possibilità a candidati e partiti di realizzare spot e rubriche autogestite a pagamento nelle ore pomedridiane della durata di 15 minuti ciascuna e in onda dalle 21 e 10 alle 22 per tutte le informazioni su costi e listini è possibile contattare le tre redazioni e i numeri che vedete in sovraimpressione oppure agli indirizzi mail grazie per averci seguito con questo è davvero tutto vi lascio alle nostre previsioni del tempo buon proseguimento con la nostra programmazione la serata come sempre ricca su Teleporteduna arrivederci tempo previsto per giovedì 3 settembre di notte alternanza di nuvole e rasserenamenti dal mattino in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso precipitazioni assenti temperature rispetto a mercoledì fino al primo mattino saranno senza variazioni di rilievo poi in aumento leggero moderato valori nella media 20 deboli moderati in alta montagna da nord-ovest altrove con direzione variabile mare poco mosso di rinfo di rinfo Grazie.